A Teramo le forze di opposizione hanno formalizzato la richiesta di istituire una commissione d'indagine per esaminare la controversia legata al Cineteatro Comunale. La mossa segue la decisione del Tare che ha riconosciuto merito al reclamo del negozio di abbigliamento condannando il comune a risarcire quasi 700 mila euro. Una richiesta che è dovuta a una situazione gravissima, quella del Cineteatro Comunale, che la sentenza ha evidenziato in maniera chiara e netta rispetto a un grave comportamento dell'amministrazione che viene dichiarato dalla sentenza agito con condotta colposa, non rispettosa del principio di buona fede e dell'affidamento del privato. Si tratta quindi, oltre al danno dei circa 700 mila euro che il comune è stato condannato a risarcire, c'è anche un discorso proprio di capacità amministrativa, di correttezza amministrativa che non può passare inosservata. Io nei giorni scorsi ho chiesto le dimissioni del sindaco perché ormai questo smodello di Alberto Teramo sta veramente mettendo in ginocchio una città. La sentenza ha scatenato un'ondata di critiche e polemiche da parte dell'opposizione che ora sollecita la creazione urgente della Commissione come prevista dall'articolo 30 dello Statuto Comunale e dell'articolo 41 del Regolamento del Consiglio Comunale. Inoltre l'opposizione ha anche annunciato un esposto alla Corte dei Conti. Non si sa che fine faranno i lavori, non si sa quanto ancora il comune dovrà risarcire. È vero che è una sentenza che non è definitiva, ma purtroppo non è definitiva neanche per il privato, quindi che potrà impugnarla. Ma al di là di questo discorso sicuramente i lavori non possono cominciare. Sarebbero dovuti cominciare, secondo l'annuncita di questo smodello di Alberto Teramo, il 10 di gennaio. Siamo a maggio e ancora non sappiamo se e quando questi lavori si faranno, se e quando il privato lascerà l'immobile e quanto il comune dovrà pagare. Non è possibile, non è più possibile che Teramo possa accettare questo. Quindi commissioni di indagine, esposto alla Corte dei Conti, dimissioni del sindaco. Questi sono i tre perché in realtà Teramo oggi è attesa da anni in cui può veramente cambiare il suo volto e non mi sembra questo il modo migliore per farglielo cambiare.